I vari DPCM varati dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a causa della pandemia da Covid-19 stanno mettendo a dura prova il sistema economico del Paese. Purtroppo sono numerose le imprese che già a fine anno, vale a dire fra qualche giorno, rischiano la definitiva chiusura, con le conseguenze che tutti possiamo immaginare. Ma c'è anche chi in questo particolare momento non si dà per vinto, rimodulando la propria attività per cercare di far fronte a questa crisi economica. Siamo distributori di bevande per le attività ristorative, però avendo questo punto vendita abbiamo deciso di ampliarlo e diversificarlo, quindi ci rivolgiamo non solo alle attività ristorative ma anche e soprattutto alle famiglie. Abbiamo diversificato i prodotti, quindi anziché solo oreca, prodotti oreca, abbiamo messo anche prodotti retail. Questo perché? Perché comunque il Governo ha pensato bene di chiudere le attività ristorative o limitarne il proprio normale svolgimento di attività e quindi noi ci siamo ritrovati con riduzione di fatturato e abbiamo ampliato la nostra attività in dalsenso. Un'attività che è stata variata in modo da poter intercettare una clientela più ampia. Modulabile sì perché comunque abbiamo i prodotti che possono andare sia per la ristorazione che per le famiglie, anche perché ormai con il fatto della limitazione delle attività ristorative se prima c'erano più consumi fuori casa oggi ci sono più consumi in casa.